rispetto a sabato ha fatto una partita straordinaria sotto l'aspetto tecnico il gol ha fatto un gol straordinario ma sotto l'aspetto tecnico ha fatto veramente una grande partita il secondo tempo addirittura potevamo accompagnarlo di più su qualche contropiede invece c'è mancato un pochino i due esterni o centrocampisti che arrivavano a sostegno